468 comuni veneti per circa 4 milioni di abitanti 26.000 chilometri di canali 4.000 chilometri di argini 389 pompe installate 401 impianti di sollevamento irriguo eccoli alcuni dei numeri imponenti della bonifica veneta bonifica veneta che ha retto all'urto dell'ultima alluvione che avrebbe potuto portare una devastazione dalle incalcolabili proporzioni la bonifica invece retto come ci spiega il presidente dell'unione veneta bonifiche giuseppe romano il sistema di bonifica in veneto ha retto ha retto giustamente come diceva lei facciamo un lavoro che per molti non è visto ma un lavoro oscuro importante e virtuoso da alcuni numeri noi ogni anno attraverso i nostri contributi contribuenti facciamo 100 milioni di euro di manutenzioni sui nostri argini sui nostri canali sulle nostre idrovole sulle nostre opere per capirci oltre a questi 100 milioni all'anno negli ultimi tre anni abbiamo ricevuto e abbiamo quindi investito in veneto altri 100 milioni di euro all'anno a verona nell'ambito della rassegna geo oicos l'unione bonifica veneta ha quindi rilanciato un piano quinquennale per la difesa idraulica come ci spiega il direttore andrea crestani il piano quinquennale che abbiamo presentato riguarda tutti gli interventi che i consorzi hanno rilevato sul territorio veneto oltre 500 progetti da piccoli a grandi interventi che il territorio veneto avrebbe bisogno per mettersi in sicurezza idraulica o soprattutto per mitigare il rischio idrogeologico dei prossimi anni. E sul post alluvione non è mancato ai nostri microfoni nemmeno l'intervento del vicepresidente di regione veneto marino zorzato. Credo che questo episodio dico drammatico ci obbliga alla riflessione rispetto all'emergenza credo che il lavoro che la regione sta facendo intesa con il governo della protezione civile sia un lavoro importante il presidente zaia da commissario ha già messo in moto la cabina di regia e la sua squadra di lavoro credo che le prime risorse importanti 300 milioni di euro ci diano la tranquillità di un intervento immediato importante che cominci dai cittadini dalle famiglie che vada all'impresa e poi vada in qualche modo messa in sicurezza del nostro territorio. Il presidente Giuseppe Romano infine ribadisce che le risorse future possono mettere in sicurezza il veneto se spese ovviamente seguendo i criteri della bonifica. Sentiamo. Chiediamo fondamentalmente che ci venga riconosciuto un investimento per supportare e per superare questa emergenza. Questo nostro intervento che è un intervento quinquennale è di circa 200 milioni di euro per cinque anni, voglio dire il famoso miliardo di euro. Questo è il nostro piano di rilancio perché riteniamo importante e fondamentale per il territorio del Veneto. Ricordiamo sempre che il Veneto è una realtà estremamente fragile ma sicuramente ricca, il nostro nord-est è questo, per cui abbiamo necessità di ripararlo da queste situazioni drammatiche che dobbiamo assolutamente evitare. Quindi preveniamo queste risultazioni, preveniamo questi rischi investendo nel territorio come abbiamo fatto nel passato, anzi direi un po' di più rispetto al passato. Ci siamo spostati nuovamente al banco di macelleria per continuare a parlarvi di questo progetto, un progetto che si intitola appunto La carne di casa tua, come c'è scritto in questo ricettario fatto proprio da questo signore. Allora abbiamo voluto raccontare un po' i tagli, anche quelli un po' tralasciati, tutti ordinano filetto, ecco invece ci sono tantissimi tagli che aiutano anche a mangiare meglio spendendo anche meno. Ad esempio raccontiamo per fare un buon bollito che tagli utilizzare? Allora abbiamo scelto questi tre tagli qua che sono i più comuni e anche i più saporiti per un buon bollito. Si parte dal tasto che è quello meno pregiato ma più buono sia come per fare il brodo che come carne. Abbiamo lo scappino o copertina o cappel del prete o il muscoletto tradizionale e sono tutti i tagli che rendono un brodo speciale. Quindi diciamo ai consumatori fidatevi del vostro macellaio di fiducia? Soprattutto perché un macellaio sa cosa consigliare senza dare sempre i soliti pezzi magri che dopo non hanno il risultato ottimale come questo. Certamente. Allora Renato grazie. Come avete visto in sovrimpressione il 3 dicembre ore 20 e 30, 20 e 45. Ci sarà un toy show del tutto particolare all'hotel Ristorante Antica Postumia a Fanzolo di Vedelago con ospiti Moreno Morello, il professor Giacone e tanti altri proprio per parlare di carne ma facendolo ovviamente all'insegna anche del divertimento. Saranno delle lezioni però tutte da seguire. E noi concludiamo con Nazareno Gerolimento, col presidente, perché fuori ho visto un distributore di latte fresco. Un'altra pratica che è sinonimo di qualità. Ma guardi, la nostra cooperativa vuole essere il punto d'incontro tra il consumatore e il produttore per garantire qualità, salubrità e anche economia. Allora io vi ringrazio davvero, quindi speriamo di avervi detto qualcosa di interessante per un nuovo modo anche di fare la spesa, dovunque voi andiate. Noi ci fermiamo qua nella seconda parte e andiamo a conoscere quest'altra cooperativa, la Monteliana, che ci parlerà anch'essa di carne di qualità. A tra poco. Ventitreesima mostra del radicchio tardivo a Martellago. Dal 3 al 13 dicembre ogni giorno musica, spettacoli, intrattenimento per bambini e un ricchissimo stand gastronomico. www.promartellago.it Ventitreesima mostra del radicchio tardivo a Martellago. Dal 3 al 13 dicembre ogni giorno musica, spettacoli, intrattenimento per bambini e un ricchissimo stand gastronomico. www.promartellago.it Seconda parte di Cronaca e Trevigiane, come ricordato poc'anzi, continuiamo a parlarvi di questo progetto, la carne di casa tua, ve lo abbiamo già detto, due cooperative, la Castellana e la Monteliana, insieme per valorizzare il concetto di consumo della carne a chilometro zero dei nostri allevamenti. Siamo nella sede in via Castellana a Montebelluna, della Monteliana, il campo. Allora direttore, è un progetto che parla di consumo consapevole di carne? Sì, è un progetto che è partito un mese fa circa e che tende a valorizzare non solamente quello che è il valore nutrizionale della carne, che è molto importante nell'alimentazione, ma anche valorizzare e far capire ai consumatori il percorso che la carne ha dall'allevamento, quindi tutta la filiera cosiddetta corta, filiera a chilometri zero, fino alla tavola del consumatore. Qui avete poi creato anche un momento con gli agriturismi dell'area. Sì, la nostra cooperativa è sempre stata vicina a quello che gli aspetti sociali di convivialità, ma soprattutto anche gli aspetti delle tradizioni. Quindi abbiamo pensato che le aziende agrituristiche fossero sicuramente l'elemento trainante del territorio. Quindi abbiamo organizzato questa serata per trasmettere a loro i valori della terra, i valori delle tradizioni e soprattutto un momento culturale, visto che le aziende agrituristiche hanno interesse a portare avanti proprio il valore della carne, la qualità della carne in quanto tale. Avete invitato una nutrizionista nota e uno chef per trasmettere che non si mangia solo filetto, ma ci sono dei tagli della carne straordinari dell'antica tradizione veneta che un po' oggi sono in disuso nelle famiglie. Sì, in effetti eravamo abituati sempre a parlare di tagli cosiddetti reali, filetti e quant'altro. In realtà ci sono altri tagli, il famoso quinto quarto, che in effetti cominciano a essere molto in uso nella tavola. Il quinto quarto sono le frattaglie. Le frattaglie, in effetti, e che cominciano a essere molto in uso tra le tavole. E soprattutto, e lo chef questa sera lo dimostrerà, ci sono dei piatti che veramente li valorizzano e li fanno diventare piatti veramente appetitosi. Allora andiamo a conoscerli. Grazie direttore. Tra poco i nostri microfoni, chi ci svela qualche segreto di questi tagli di carne davvero succulenti. A tra poco.